Infinito compie dieci anni, intanto buon compleanno, è un'iniziativa, un'esperienza che dimostra quanto profonda e radicata sia la voglia di sapere che c'è nella nostra comunità, in particolare attorno a un tema così intrigante, così denso di misteri come è l'universo che ci sovrasta, è un'iniziativa che dimostra la capacità di conoscere, la capacità scientifica della nostra comunità, ma che dimostra anche la voglia di sapere di tante persone comuni e soprattutto di tanti giovani. Non essere mai soddisfatti di quello che si sa è la chiave per essere liberi e per poter migliorare la condizione propria e di tutti quelli che ti stanno attorno. Per questo Infinito è importante, per questo la Regione che ha iniziato a sostenerlo dieci anni fa, anzi forse anche da prima, continuerà a sostenerlo perché Infinito è una parte importante del nostro futuro.